A bordo del treno dell'ora solare sono arrivati arrivato un nuovo ospite che ha giustamente posizionato questi capolavori perché credetemi lo stiamo vedendo grazie a Enzo Pirroni nostro regista li stiamo vedendo inquadrati in ogni minimo particolare sono veramente dei capolavori è salito il signor Francesco Agnello passione per il modellismo ferroviario che non potrebbe stare su divano migliore perché il direttore generale della fondazione ferrovia dello Stato italiano Luigi Cantamessa e Roberta Paderi agente di condotta ovvero lei tre lei guida il frecciarossa alta velocità un treno si guida vero si si guida e come il verbo si conduce per l'appunto si conduce e io ho detto guida ma fa niente abbiamo capito che di si dice si conduce che cosa signor Agnello grazie intanto la condotta nella vita ad amare follemente come le diamo ragione questi queste meraviglie tutto è iniziato molti anni fa ero bambino e mi ero innamorato di un trenino di ne ha fatta di strada eh sì certo queste locomotive cosa sono mi scusi queste sono tre locomotive che io provengo da da grotte provincia da Grigento sono le locomotive che nella mia adolescenza ho visto c'è la prima in assoluto la L6668 mi aiuti entro nel panico questa ecco non si alzi la littorina questa qui esatto con queste ci sono da scuola perché nei comuni con 4 mila abitanti cinque mila abitanti alle scuole erano fuori il liceo quindi ho fatto il e si prendeva la littorina la littorina che era che era treno e scompartimenti tutti insieme cioè o meglio locomotiva e scompartimenti per motivi di spazio che ho vengiato con l'aereo mi dispiace per arrivare prima ho portato solo una parte perché c'è questa è quella motorizzata e poi c'è quella folle che erano la composizione classica questa verde questa si migrava a questi si migrava si andava a nord con queste ho fatto il primo militare che ho preso il concorso all'accademia di modena e sono andato con questa fino a catania perché la grigento a catania si andava solo con la quattro quattro cinque quattro quattro tre sono nella a diesel poi tu salivi su quell'altra su questa quella è la catania verso il nord o altre si andava verso nord motrice e quindi si andava che meraviglia lei è un ragioniere di professione che ha un hangar a casa si vero sua moglie come come ci mettiamo a spolverare la moglie non spolvera non può toccarle ma non può toccarle sono molto delicate devo toccare io a questa si chiama proprio c'è sono i miei perché sono molto delicate queste cose basta in modo diverso da come si fa e si può Francesco lei mi fa un po paura no sto scherzando avete presente le famose mani di burro quelle che fanno cadere tutto pensa tu se fai cadere un pezzo di questi insomma signora non sto parlando a lei ci mancherebbe sto parlando di me allora amare i treni significa anche misurarli guardarli con misurare anche con gli occhi sapere che acquisterai un pezzo che è un pezzo di estremo valore e che tu stai veramente riproducendo così com'era quel treno cioè non è un acquisto una cosa che assomigli quando ti piace una cosa tu acquisti in base a quello alle tue il tuo piacere io ho fatto con un plastico che ricalca molto la mia il mio territorio quindi hai fatto un'opera d'arte la dica tutta l'ha fatto un'opera d'arte non è un'opera d'arte scusate giudicate voi è ancora sono parte da rifinire questa che cos'è questa è la stazione è il territorio la sua zona la zona tra grotte e comitini zolfare che era perché nel 1800 lì è arrivata la ferrovia è arrivata anche perché c'era la produzione di zolfo certo la produzione di zolfo certo però tutto quello che state vedendo l'ha creato quest'uomo il signor francesco che in realtà 40 anni fa 40 anni fa c'è il dottor cantamessa che sta guardando con una con un'attenzione perché si sono incontrati voglio precisare che questo è un laboratorio perché io ancora ci sono alcune parti che non ho toccato minimamente sulle quali sta ancora lavorando sì perché è come la tela di penelo poi c'è penelo poi che faceva che bello crea e aspettava olisse e quindi lavorava e contro lavorava va detto sveliamo una pagina del signor francesco che usa quando era piccolino faceva il presepe però questo già rispetto al ragazzino che arriva e pianta lì un alberello di natale lei era delegato a casa a costruire il presepe utilizzava e credo utilizzi ancora gesso polistirolo das camomilla setacciata per fare l'erba ma è una meraviglia direttore è una meraviglia è il fascino del treno ma guardi ci sono pure pecore non so no ma è il treno l'elemento centrale e il signor francesco ecco perché io ero così pensieroso lui ha riprodotto la ferrovia nel come noi la vediamo nel suo immagine il nostro immaginario collettivo se non ha riprodotto un muro di periferia pieno di scarabocchi come oggi accade di vedere oppure delle colate di cemento armato quando dobbiamo rinforzare ha riprodotto lo vediamo la bellezza delle linee architettoniche italiane i portali di galleria in concordo pienamente con le guardate come il paesaggio ferroviario non disturba il substrato né sociale né l'ambiente ecco perché il treno permea la società ricama le nostre zone guardiamo che bella cosa che ha detto il treno ricama le nostre zone allora il treno ricama le nostre zone il treno attraversa il nostro paese e sempre di più lo fa e lo farà e il treno ti permette la lettura ti permette di alzarti in piedi di spostarti benissimo ti devi portare le valigie su questo non ci sono dubbi però permette appunto se non stiamo tutti con la faccia per carità e non è una critica sono la prima sul nostro telefonino o sul nostro diciamo computer anche di socializzare e poi torniamo però a chi guida il treno in questo caso ci spostiamo su freccia rossa etr 500 etr 1000 si e qual è il viaggio più lungo che lei abbia fatto da salerno a milano caspita lungo sì sì ma in genere quando i turni sono così lunghi prevedono che io sosti e dormi in quella città in cui sto arrivando certo certo tipo per esempio se guido da salerno a milano sono cinque ore si dorme a milano e poi il giorno dopo si rientra a napoli ovviamente si rientra a napoli il numero i bambini sono i più rumorosi è vero che lei dice io lo guido il treno non non li sento mica ma infatti ma allora parte che se pur fossero rumorosi sarebbe un rumore piacevolissimo però appunto io stando in cabina sono nel mio ambiente vattato niente non vede e non senti mai distratta da nulla distratta mai no assolutamente mai distratta da qualsivoglia cosa e il treno va allora direttore Cantamessa grazie al recupero di treni e stazioni che c'è stato è arrivato anche un incremento dei viaggiatori torniamo ai vostri viaggiatori lei ha viaggiato su questi treni signor Francesco certo domanda inutile ovviamente questi treni ho conosciuto i treni in questo modo viaggiando viaggiando no no intendevo dire questi treni nuovi adesso questo recupero la fondazione beh su quello anche quelli della fondazione anche quelli della fondazione anch'io giuro allora questo incremento di viaggiatori direttore è un ottimo segnale perché ecco perché facevo riferimento ai bambini perché forse raccontare che questo paese si possa attraversare col treno e sia bello attraversarlo col treno è uno dei grandi lavori che voi state portando avanti sì è vero e questo è un altro spicchio di quella cultura ferroviaria di cui dicevamo poc'anzi i bambini pensiamo un momento il nonno porta il bambino caricandolo sulla canna della bicicletta in stazione il bambino ancora a due anni saluta spontaneamente il treno pensiamoci insieme non saluta l'autobus non ce ne vogliono gli autisti degli autobus non saluta l'autobus non ce ne volete per favore descrivo un aspetto però è vero si fa ciao ciao al treno lì c'è tutto l'amore della mia collega e del signor Francesco e il mio è in quella definizione che è veramente magnetico l'aspetto del treno perché suscita le emozioni in un bambino che non è ancora adulto se la suscita nel fanciullino come non potrebbe poi suscitarla noi che oggi parliamo di sostegno assolutamente come può non suscitare guardate voglio dire voi ve ne andate in giro per l'Italia sapendo attenzione di fare un viaggio di piacere oltretutto però un viaggio di piacere che allena a pensare che il treno sia sempre più importante questo forse lo dobbiamo imparare più noi che viviamo nelle grandi città di quanto già le persone non sappiano come dovendosi spostare da un posto all'altro il treno sia fondamentale però quel treno è un'altra storia ed è un'altra cosa e il signor Francesco, ragioniere Francesco quanti sono? lei li ha contati, censiti e li chiama pure per nome i suoi treni? certo, 60 treni 60 treni? meglio 60 motrici perché poi ci sono le carrozze certo, è ovvio le composizioni delle carrozze non sono reali perché in scala H0 è 1,87 quindi dove è messo questo mio plastico è piccolo e quindi ho dovuto fare il massimo 4-5 vagoni dica la verità, ha fatto la corta ai signori dell'appartamento a fianco per dire senta guardi, buttiamo, apriamo tanto, non è portante il muro, apriamo un attimo in scala H0 è più facile poter costruire un bel plastico perché c'è... ma il suo è bellissimo sì, per carità è bellissimo, guardi, ha preso i complimenti di tutti quando abbiamo visto le immagini è veramente... è una cosa... cioè ci si potrebbe girare la scena di un film in molti film funziona in questa maniera io lì non ho messo per tempo, per mancanza di tempo le 7,40 che hanno la possibilità della Riva Rossi di mettere l'olio nella... e quindi fa il fumo ideale sì, è un fumo preciso come nella realtà perché se mette poi il sound diventa reale senta, quando lei vede un film storico guardo prima le locomotive io stavo per dirle, fa le pulci alle locomotive fa le pulci e le vado in cerca e va in cerca di quella locomotiva perché la locomotiva poi... e la locomotiva, direttore, è il perfetto... è la perfetta metafora della vita di certe persone, no? quando uno dice... sa cosa dico sempre io? smettila di avere la sindrome della locomotiva quando vedo... no, non solo correre, è trascinare no? le mamme per esempio sono tutte affette dalla sindrome della locomotiva meno male non guarite, vi prego i papà anche pure ma ci sono poi gli amici, no? quelli che sentono il carico e quindi la locomotiva è potente e fatica al tempo stesso, no? pensiamo alla locomotiva a vapore che oggi si può gustare andando a viaggiare su una linea di binari senza tempo della fondazione FS quando lei si avvicina alla locomotiva a vapore sente il palpito del cuore cioè c'è il ciuff e lo sforzo quando la locomotiva con le sue bielle incede in salita mima come nessun mezzo terrestre la fatica dell'uomo che era prima affiancata alla fatica dell'animale non dimentichiamo che nella storia dell'umanità il grande salto dai 5-7 km orari della carrozza a cavalli lo fa il treno 10 volte l'abbiamo sentito al museo di Pietrarsa i cavalli diventano cavalli a vapore però è vero che quando sei vicino alla locomotiva la senti respirare questa è la cosa che colpisce di più però chiudiamo con Roberta Paderi però anche la locomotiva tutta affusolata con quel naso a punta del frecce rossa anche lei respira e se respira e senza fiatone soprattutto assolutamente vediamo quanti chilometri fa 300 km orari ne fa di strada lei fa mai pat pat quando scende? sempre sempre pure su questo non avevo dubbi allora signori il treno questo l'abbiamo capito forse possiamo concludere con queste parole il treno serve a sentirci più vicini noi che siamo a bordo e avvicina le distanze quando si arriva alla stazione che si arrivi per lavoro che si arrivi per quello che vuoi hai sempre una sensazione di che bello sono arrivato ecco quello rimane a tutti gli effetti e allora noi ringraziamo Luigi Cantamessa e diamo il nostro buon lavoro alla Fondazione Ferrovia dello Stato e vi invitiamo a raggiungere questi luoghi belli bellissimi da visitare a bordo di questi treni a Francesco Agnello un grazie speciale perché ci ha portato queste bellezze e le spolvera anche lui e le pulisce lui e sia chiaro non è mancanza di fiducia nei confronti di sua moglie però giustamente lei dice sarebbe peggio sentir dire no le lascio spolverare ad altri ma tu le accarezzi delicatamente lei è proprio amore è grande amore e a Roberta Paderi che sarebbe stata un meraviglioso carabiniere ma che in maniera altrettanto precisa altrettanto puntuale altrettanto fedele guida anzi conduce il suo Freccia Rossa ci ho messo tutta la puntata ma alla fine ho detto il verbo giusto signori se volete rivedere questa puntata altro dovete fare che scaricare sul vostro telefonino tablet insomma la nostra app Play 2000 e così ripartiamo con questo viaggio in treno in vostra compagnia grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie